ariete la fase che vivete vi vede un po affaticati sollecitati in molteplici maniere ma non perdete la determinazione e la costanza per ottimizzare tutte le situazioni oggi la luna armonica allarga il vostro cuore e vi regala una giornata meno nervosa toro splendido momento da dedicare all'armonia con chi amate a vivere con passione ciò che vi piace e vi intriga la possibilità di incontri per chi è solo è interessante basta non restare ancorati alle abitudini e uscire per far accadere qualcosa gemelli la luna nel segno ammorbidisce la vostra sensibilità che resta però ancora preda di toni fiacchi e spenti poco soddisfacente la sintonia in amore con chi vi circonda che riduce la vostra vivacità e vi porta clamorosamente a isolarvi un po non siate troppo mordaci verbalmente cancro la disposizione planetaria che vi riguarda riflette sul lungo periodo un andamento un po' aspro a tratti faticoso ma adesso sono in atto ottime influenze che si riversano sulla sfera amorosa sul vostro benessere intimo e sulla vivacità delle relazioni sentimentali leone buon assetto astrale per voi che vede la tendenza a concretizzare alcune questioni di carattere lavorativo che si consolideranno a vostro vantaggio oggi la luna in sintonia con le emozioni positive e amplifica la vostra natura solare e generosa vergine la porzione emotiva e sentimentale è a rischio tensioni e irritabilità una vena di malcontento permea le vostre percezioni e sensazioni suscitando la vostra tendenza polemica ipercritica un andamento che abbassa la qualità dei rapporti interpersonali e soprattutto amorosi bilancia la giornata dipinge colori più brillanti nel vostro cielo siete orientati a vivere con maggior serenità appagati in parte da ciò che siete riusciti fin qui a realizzare ma colloquio rivolto ai futuri cambiamenti e a qualche incertezza che ancora non scompare scorpione sono le conquiste e le passioni che adesso coinvolgono pensieri ed energie conquiste di stampo sentimentale amoroso ma anche rivolte a questioni che investono ambizioni personali obiettivi importanti un momento in cui potete osare sagittario un sottile nervosismo caratterizza questa giornata che non vi fa apprezzare il lato positivo dei fatti sollevando irritabilità e qualche intemperanza soprattutto in amore ma la cosa è momentanea in realtà le posizioni planetarie rilevanti sono favorevoli al vostro cammino capricorno una bella dose di carica vitale e benessere caratterizza questo momento nel quale le faccende di cuore sono favorite insieme alla capacità di affermarvi nelle questioni personali di lavoro grazie alla vostra tendenza ad essere propositivi e in equilibrio tra sentimento e razionalità acquario una bella luna amica vi predispone all'ottimismo e a vedere il bicchiere mezzo pieno e in effetti ne avete tutte le ragioni baciati da un quadro astrale che vi grazia da parecchi punti di vista vi elargisce conferme e voglia di prendere iniziative di andare oltre la quotidianità pesci nonostante qualche perplessità che dovete ancora combattere per ottenere via libera alla realizzazione di programmi a cui tenete particolarmente avete l'appoggio di venere e marte in transito nel segno che amplificano la passionalità la voglia di amare creando un momento speciale buone stelle